Ragazzi in questo nuovo video di pesca vi faccio vedere questi bei pesci che ho preso qui a Vesima Allora, con la piaccina a mano, questo bel cefalo sui tre etti circa, una bella seppia, una triglia, un tordo, un pavone e un'altra triglia un po' più piccola Ciao ciao, al prossimo video! Ciao